E in questa situazione epidemica si continua a discutere di riapertura delle scuole che in Sicilia ripartiranno per quanto riguarda gli alunni delle superiori in presenza al 50% dal prossimo lunedì 11. Ma intanto a Messina il sindaco Cateno De Luca preoccupato da questo innalzamento dei casi di contagio ha con la sua ordinanza bloccato la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado. Scuole chiuse tutte senza distinzione a Messina il sindaco De Luca superato la decisione della regione ha rotto gli indugi ieri sera al termine di un confronto con i rappresentanti dell'ASP della sua giunta e di presidenti delle aziende partecipate ha firmato un'ordinanza di chiusura di tutti gli istituti anche asili, infanzia e primaria pubblici e privati per domani e venerdì. Il primo cittadino ha evidenziato in una nota sulla sua pagina Facebook come la decisione nasca dalla situazione di inaudita gravità che è emersa sotto il profilo della crescita dei contagi. 2.000 degli attuali 2.725 positivi in provincia sono in città. In bilico c'è anche la riapertura degli istituti comprensivi da lunedì. Molto dipenderà dalle valutazioni del tavolo tecnico convocato per sabato mattina. State tutti attenti perché la situazione ormai è sfuggita di mano e prendere il covid in queste condizioni significa mettere maggiormente a rischio la propria vita. Io non escludo che la chiusura delle scuole venga prorogata anche perché il rapporto di tamponi effettuati con quelli che sono anche le risultanze e le posi di vita nella città di Messina è elevato e non escludo neanche misure più drastiche. E che l'aumento dei casi sia evidente e preoccupante lo testimoniano anche i numeri dell'afflusso di auto al covid village degli imbarcateri ormai aperto a tutti i cittadini. Infatti come vede lei adesso che siamo un po' in affanno stiamo chiudendo il cancello momentaneamente e poi lo riapriremo. È chiaro che facciamo il possibile per fare uscire tutti più presto però le persone si spazientano. Allo stato attuale qui a piedi non facciamo nessuno. Facciamo entrare solo le persone che vengono con le auto. E se tutti i pronto soccorso della provincia sono in grosse difficoltà per l'aumento degli arrivi resta a livelli preoccupanti anche la situazione covid sui nebrodi. Dopo capizze anche San Fratello da domani diventerà zona rossa e lo sarà sino al 21 gennaio. Una decisione arrivata dopo l'allarme del sindaco Salvatore Sidoti Pinto e l'accertamento di 76 positivi al tampone molecolare.